salva tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come mai tanti di voi sapranno più di un anno fa amazon ha presentato il suo drone un drone domestico un drone che fa da camera di sicurezza quindi un drone comunque che vuole solo all'interno della nostra abitazione per tenerci al sicuro è stato presentato due volte una volta quando è stato presentato come novità mentre un'altra volta è stato diciamo presentato come prodotto arrivato sul mercato ma solo negli stati uniti quindi comprabile solo da amazon america ma soprattutto solo da determinati utenti però non se ne è realmente mai visto almeno io non ho mai visto una recensione di questo drone e allora io e nicola del canale e non the road abbiamo deciso di costruirlo noi il drone di amazon ovviamente essendo due persone malate di mente entrambi ci siamo riusciti e abbiamo costruito il drone di amazon ragazzi guardate qua il drone che amazon aveva presentato e che noi abbiamo riprodotto ovviamente non è solo una riproduzione statica ma è un drone che vola ovviamente per creare questo prodotto c'è stato tantissimo a mano d'opera io mi sono occupato della parte della stampa 3d nicola si è occupato insieme ad un suo amico della parte elettronica mentre il progetto per la stampa 3d l'abbiamo acquistato appunto da un utente americano che ha creato il file e poi che liberamente lo vende quindi abbiamo acquistato il file io ho stampato in pet g perché comunque c'è un materiale resistente un materiale che resistesse tranquillamente al calore perché qua è tutto chiuso quindi abbiamo le batterie in questo corpo abbiamo la istago due che ci riprende mentre vogliamo e il file controlle che è chiuso qua dentro quindi si genera un calore incredibile e ci voleva un materiale che resistesse al calore quindi ho optato per il pet g e la colorazione quel grigio del colore del drone ufficiale di amazon nicola come vi ho detto si è occupato di tutta l'elettronica la batteria anche lei qua nel corpo centrale sono batterie piccole per starci ovviamente insieme alla istago due sono batterie da 450 mini ampere quindi sono davvero piccolissime sono delle 3s e quindi anche l'autonomia di volo è davvero limitata però è un drone che vola veramente cioè non è un drone soprammobile ovviamente con dei limiti assurdi ma vola però è tutt'altro che autonomo qua siamo proprio dall'altro estremo siamo passati dal drone autonomo di amazon a un drone che va ha pilotato totalmente perché lui lo piloterò in acro quindi da un drone che se ne va in giro da solo rileva gli ostacoli riatterra nella base di ricarica tutto in autonomia a un drone che invece per fargli fare qualsiasi cosa dovrà passare dai miei pollici per fare qualsiasi cosa anche per stare fermo in hovering quindi questo è stato un progetto folle nicola mi ha detto se volevo partecipare con lui a questo progetto come facevo a dirgli di no io sono malato di mente lui è malato di mente e due malati di mente hanno creato questo prodotto e in più nicola nel suo video che trovate nel suo canale youtube e non derode ha detto che se raggiunge le 100.000 visualizzazioni rende autonomo il suo drone nicola l'hai detto tu io non l'ho detto io se vuoi ti faccio le stampe del drone per renderlo autonomo ci penserai tu quindi fate di tutto ragazzi per farlo arrivare a 100.000 visualizzazioni perché sono curioso di vedere come cavoli fa a renderlo autonomo anche perché ormai l'ha detto e lo deve fare quindi ragazzi detto tutto questo adesso però arrivato il momento di testarlo in volo come vi ho detto non è un drone che ci farà fare cose incredibili è solo la soddisfazione di vederlo volare e di inquadrarci con la istago 2 tutto qua non è un drone che ci farà fare cose assurde ma l'idea di averlo e che vola veramente per me è già stata tanta roba perché comunque è un progetto assurdo già dal punto di vista del design poi completamente stampato con la stampante 3d ragazzi per me sono soddisfazioni anche queste non so se anche per voi che state guardando il video spero che quello che andremo a vedere vi piace mi piace indipendentemente da come finisca perché magari il drone precipiterà dopo due secondi perché comunque ragazzi non è che ci ho fatto mille ore di volo ho usato una batteria che durata tipo due minuti prima di questo video e basta quindi spero che adesso nel video in cui andrò a registrare appunto quello che fa il drone non vada a fare il patatracche quindi detto tutto questo mettiamo in volo praticamente l'unico esemplare del drone di amazon che c'è in italia o probabilmente anche nel mondo in italia sicuramente ragazzi andiamo per pilotarlo userò la mia taranis mentre per quanto riguarda come vi ho detto le batterie dobbiamo andare ad inserirle qua dentro qua adesso sono inserite ma sono quelle scariche che ho utilizzato per fare la prova prima delle registrazioni di questo video giusto per vedere se il drone perlomeno si alzasse in volo almeno quello e abbiamo visto che vola quindi adesso posso registrare il video allora ecco qua le batterie come vi ho detto da 450 mini ampere 3s vado a metterne una carica vado ad accendere la mia taranis vado a collegare le batterie devo fare veloce perché qua se non inizia a bollire tutto e c'è una giornata pazzesca dal punto di vista del meteo quindi non aiuta questo sole incredibile bisogna andare a riavvitare le due viti qua nel fianco quindi lui adesso è pronto per volare vado ad accendere la istago 2 cliccando il tasto qua vedete che lampeggia il led qua davanti di registrazione video andiamo a posizionare il drone vado ad armare i motori e diamo gas eccolo qua ragazzi guardate che spettacolo è il drone di amazon è bellissimo ve l'ho detto inutile perché non si può fare praticamente niente perché è un drone che non ha nessuna caratteristica particolare di volo però guardatelo che bello vengo verso di me eccolo qua guardate vi faccio passare sopra la testa come sono salito in alto frena vieni giù piano perché se cadi ti distruggi guardate che roba è fantastico è guardatelo che roba è bellissimo ragazzi ma non bellissimo perché sia bello da pilotare ma perché riproduce il drone di amazon ed è pazzesco adesso vengo verso di me mi sono allontanato tantissimo si fa anche fatica a vederlo quando ci si allontana con questo sole ovviamente è stranissimo è perché poi si fa fatica a capire qual è il davanti e il di dietro il fianco il lato è pazzesco però ovviamente lui è una sorta di cine whoop dal punto di vista delle prestazioni guardatelo lì come vola senza paura guardate che bello che esteticamente qualcosa di incredibile tra poco finiranno già le batterie perché durano veramente poco come vi ho detto sono batterie piccolissime e lui consuma un sacco di energia per stare in volo anche per andare a queste velocità fa una fatica incredibile però è fantastico ragazzi mi aspetto qua sotto nei commenti mi aspetto pollici su perché è stato un lavoro pazzesco è stato tanta mano d'opera sia per me che per nicola nel creare e nel farlo questo prodotto che è unico l'abbiamo solo noi nicola ce l'abbiamo solo noi eccolo qua guardatelo bello stavo cadendo io e il drone perché qua ragazzi se sbagliamo a dare gas questo precipita in un lampo però merita adesso torno e riatterro intanto che ancora integro facciamo un bel atterraggio eccolo qua atterrato ragazzi è atterrato anche in maniera delicata direi quindi ragazzi vado a fermare la registrazione della istago 2 quindi ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo prodotto che abbiamo creato io e nicola se l'idea secondo voi è stata una buona idea portarla qua sul canale se apprezzate anche voi l'impegno che ci abbiamo messo nel farlo lasciatemi qua sotto nei commenti la vostra opinione perché comunque siamo gli unici possessori in italia e probabilmente anche nel mondo ma non lo so del drone di amazon è stata un'impresa incredibile costruirlo è stato bello costruirlo è stato comunque affascinante pilotarlo perché se in mano qualcosa che è stranissimo soprattutto poi pilotato in acro ci dà questa sensazione di andare a perdere dal momento all'altro perché in realtà è qualcosa che non è un drone che siamo abituati normalmente ad utilizzare quando usiamo un controller per droni fpv poi pilotare un drone in fpv senza il visore a me non mi dà quella sensibilità di pilotaggio quindi mi fa stranissimo messo insieme tutto questo l'abbiamo portata a casa comunque è ancora integro è un drone che ovviamente diventerà un soprammobile ma soprammobile che avremo solo io e nicola quindi mi raccomando lasciateci tantissimi pollici su perché comunque ci abbiamo messo tanto impegno nel farlo e abbiamo portato sul canale qualcosa di nuovo qualcosa che non si era mai visto su youtube italia perlomeno perché comunque esiste già su youtube video appunto fatto dal progettista del del progetto a livello di file 3d che ha creato poi il tutto il drone ovviamente e ha fatto il video su youtube ed è un americano ma su youtube italia siamo sicuramente i primi io e nicola ad averlo fatto fate raggiungere il mio video e quello di nicola 100.000 visualizzazioni che poi lui non so come faccia ha detto che lo rende autonomo e io come ho detto inizio video nicola ti faccio tutte le stampe che vuoi ma per quanto riguarda rendere autonomo è un problema tuo l'hai detto tu ci pensi tu e mi mancava dopo l'elenco infinito di droni che ho portato sul canale ne ho provati di ogni tipo di ogni forma di tutto ho portato sul canale come droni da quelli da 20 euro a droni costosissimi e ho portato di tutto ma questo mancava e adesso posso dire nel mio curriculum di youtuber e recensore anche di droni di avere recensito il mio drone di amazon quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato il drone di amazon autocostruito vi è piaciuto e l'avete trovato interessante un grosso pollice su seguitemi su instagram e porto tante novità anteprime spoiler di quello che arriva qua sul canale anche di lui arrivati tanti spoiler tra me e nicola di un progetto top secret ed era lui il progetto top secret sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi con po sconto riguardante il drone tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o un progetto tipo questo ciao e al prossimo video